Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il Fatto. I 15 minuti di questa sera sono soprattutto dedicati alle scuole, perché sono loro le vere destinatarie di un volume di un manuale dato alle stampe da due giornalisti, Giuseppe Lanese e Roberto Zarriello, che è un manuale di digital journalism, soprattutto a beneficio delle tante attività didattiche dei progetti che vengono sviluppati per l'educazione ai nuovi media digitali da parte delle scuole. Saluto e ringrazio Roberto Zarriello, buonasera. Buonasera Carmine, buonasera a tutti. Che è docente universitario, soprattutto giornalista e per quanto ci riguarda anche coordinatore di tutta l'area social di Reteotto. Ci daremo naturalmente del tool giornalistico, Roberto, per parlare però di una cosa che non riguarda la nostra emittente, ma riguarda anzi un mondo che apparentemente potrebbe essere in concorrenza con l'informazione tradizionale, i nuovi media, il mondo dei social e soprattutto però il punto, il fulcro centrale che è il giornalismo, quello con la G maiuscola. Com'è nata l'idea di questo manuale? Dicevi giustamente tu, un libro pensato per le scuole, pensato per i ragazzi, pensato per le università, a differenza di altri miei lavori precedenti. In questo caso abbiamo voluto, nel nostro piccolo, rendere omaggio al mondo della scuola. Sappiamo che c'è un'evoluzione digitale, che l'evoluzione digitale di questi ultimi anni non riguarda soltanto il mondo della scuola, dell'università o del giornalismo, così come dicevi tu poco fa. è un'evoluzione che riguarda chiaramente la trasformazione digitale in atto in tutti i settori. C'è sicuramente tanto bisogno di parlare di innovazione, in modo particolare di innovazione digitale. Questo lavoro si rivolge al mondo della scuola. Quando parliamo di evoluzione del giornalismo, di evoluzione della comunicazione, parliamo di temi che solo apparentemente potrebbero non essere interessanti per questo mondo, ma in realtà quando parliamo parliamo appunto di comunicazione, parliamo anche di digitale, parliamo anche di temi relativi alla media education. Media education che è al centro dell'agenda europea già da qualche anno, è un tema che sicuramente riguarderà sempre di più il futuro della scuola, il futuro della didattica e di evoluzione digitale si parla in questo libro, che parla di giornalismo, ma in generale Carmine parla di giornalismi, quindi di evoluzione del concetto di giornalismo con riferimenti alle tecniche e agli strumenti del giornalismo digitale, con qualche riferimento appunto a quelli che sono progetti di giornalismo scolastico e ovviamente anche riferimenti a quella che è la comunicazione social che oggi è diventata tanto importante anche per i vari media. è un manuale che si candida a essere un punto di riferimento per i tanti progetti digitali avviati o in corso di elaborazione da parte delle scuole, a partire già dalla scuola primaria perché poi c'è una lettura a più livelli del libro che appunto non è fatto per gli addetti ai lavori o diretto agli addetti ai lavori, ma è pieno di esempi, anche pieno di spunti che vanno letti dagli insegnanti e perché no anche dalle famiglie da comunicare alle nuove generazioni, perché qui c'è un tema di fondo Roberto e c'è un tema anche etico relativo alla deontologia della nostra professione perché siamo sommersi dalle informazioni e il giornalista ha dei punti di riferimento che distinguono la sua opera di comunicazione e naturalmente di informazione dal mare magnum di notizie non tutte, non sempre attendibili che troviamo sui nuovi media e sui social. Noi giornalisti oggi siamo penne digitali nel mare magnum dell'informazione così come dicevi tu poco fa e credo che bisogna avere le bussole per orientarsi in questo mare magnum, altrimenti si corre il rischio di non fare giornalismo social nel modo corretto, si corre il rischio di pubblicare notizie non verificate, si corre il rischio anche di non farsi capire, cosa chiaramente molto grave per chi fa questo mestiere perché non dobbiamo mai dimenticarci che questo mestiere si fa al servizio di un pubblico di riferimento e quindi la cosa fondamentale è che il giornalismo aiuti a rendere comprensibili i fatti, gli eventi che si verificano e il digitale in questo caso è sicuramente uno strumento in più. C'è un'evoluzione importante del giornalismo online, della cross-medialità che riguarda sicuramente l'ultimo decennio, gli ultimi 15 anni. Il mondo dell'informazione ha capito che non può fare a meno ad esempio dei social media, non può fare a meno appunto del concetto di multimedialità e cross-medialità e i prossimi anni saranno sempre più caratterizzati dall'avvento della digitalizzazione nei settori appunto dei media, ma non solo. Stiamo vedendo intanto le immagini della presentazione del vostro volume avvenuto la scorsa settimana a Pineto e Villa Filiani, grazie anche alla sensibilità dell'amministrazione comunale che vi ha messo a disposizione una location così prestigiosa. C'è da dire che ci sono da sempre progetti sul giornalismo da parte delle scuole, ma non sempre questi progetti c'entrano la sostanza del problema, che non è quella di portare i ragazzini in redazione oppure di portare la redazione nelle scuole. Oggi purtroppo non è soltanto questo, il problema è molto più complesso e questo lo diciamo agli insegnanti, noi aderiamo spesso a queste idee, a questi loro progetti didattici. Oggi c'è un tema un po' più profondo, perché conoscere le tecniche del giornalismo aiuta anche a essere migliori cittadini, a sapersi appunto districare nella valanga di informazioni che arrivano e quindi appunto il riferimento deontologico a cui facevamo riferimento diventa anche una questione di libertà individuale, di libertà di informazione, addirittura l'articolo 21 della nostra Costituzione, che da un lato salvaguarda la pubblica informazione, la stampa, quindi i diritti di chi è giornalista, ma dall'altra parte è soprattutto un presidio per la libertà di tutti. Non scopriamo questa sera che la qualità del giornalismo migliora sicuramente la qualità della democrazia. È chiaro che quando parliamo di determinati temi, anche in riferimento alla stretta attualità, è quando ci riferiamo, stavamo parlando appunto delle scuole, quando ci riferiamo ad un pubblico giovane, ai ragazzi, dobbiamo capire che da un punto di vista etico, deontologico, abbiamo anche la responsabilità dei contenuti che veicoliamo. Questo riguarda per il vecchio giornalismo e per le nuove piattaforme, anche se oggi io non creerei più una distinzione tra questi due mondi, ma esiste soltanto un giornalismo con la G maiuscola, come dicevamo all'inizio, e questo giornalismo ovviamente ha varie declinazioni e deve tenere in considerazione i vari linguaggi. Hai detto una cosa molto importante prima, quando facevi riferimento a tutti i progetti delle scuole, tipo il giornalismo scolastico, il blog, le visite nelle relazioni, tutto questo va bene perché contribuisce ovviamente a rendere i ragazzi parte attiva di questo processo, ma non basta. I ragazzi non possono essere più solo spettatori, ma devono diventare attori, sperimentare. Quando si parla di digitale, dobbiamo partire dal presupposto che il digitale non lo puoi studiare soltanto su un libro o su delle slide, il digitale lo devi sperimentare, devi provare, sbagliare, riprovare, perché poi questo è fondamentale. Oggi ci sono in relazione all'evoluzione del giornalismo e della comunicazione didattica degli esperimenti che è importante sottolineare, non riguardano soltanto le grandi scuole o i grandi gruppi, ma possono riguardare anche le scuole più piccole. Ci sono degli esperimenti, ad esempio in Molise c'è una scuola di Larino che ha lanciato un podcast, ci sono in Abruzzo esempi di scuole che hanno sperimentato dei podcast, dei blog didattici. Bisogna continuare con questi esperimenti, perché provando, facendo cose belle, bellissime, anche sbagliando, poi si dà vita a dei progetti su cui è bello riflettere e ragionare anche all'interno della comunità scolastica. Usare anche i social delle scuole come strumenti per veicolare informazioni. Questo sicuramente contribuisce a far sì che i ragazzi possano prendere confidenza col mezzo, ma anche a far sì che i ragazzi possano capire l'importanza di un contenuto. E se tu ragioni sulla fondamentale importanza di un contenuto, eviti di usare i social con superficialità, cosa che molto spesso porta a veicolare contenuti sbagliati. Non posso non chiederti, siamo a poche ore, te lo chiedo ovviamente da addetto ai lavori, stai sicuramente monitorando tutto ciò che sta uscendo sui social, sulle elezioni americane. Cosa ci sta insegnando questa fase di utilizzo da parte anche della politica dei social, un appuntamento più importante per le democrazie occidentali che si rinnova ogni tre anni? Diciamo che le elezioni americane sono social già da qualche turno a questa parte, nel senso che già nelle scorse presidenziali abbiamo avuto un esempio della centralità dei social, così come è stato anche nelle precedenti. Questa volta ovviamente c'è da parte dei candidati una grandissima attenzione, anche perché voglio dire non si può prescindere, non si può ragionare senza quel pubblico di riferimento, ma credo che la vera novità da un punto di vista tecnico sia stata appunto, li citavamo prima, nei podcast. I due candidati, sia Kamala Harris che Donald Trump, hanno deciso di dedicare spazio e tempo anche con interviste rilasciate a dei podcast importanti in America, proprio per raggiungere un pubblico attraverso i social. Questo credo che sia significativo perché ovviamente significa che sta cambiando non solo il modo in cui vengono diffuse, rilasciate le interviste, ma anche il modo in cui vengono percepiti i podcast. Ci sarà secondo me sempre più attenzione verso questi nuovi strumenti, verso le piattaforme e verso questi nuovi linguaggi, perché il futuro va in questa direzione e credo che ovviamente non si potrà mai fare a meno di parlarne. Questo riguarderà le elezioni americane, queste elezioni in modo particolare, come sappiamo Carmine, molto importanti dal punto di vista geopolitico, dal punto di vista dei mercati, ma credo che riguarderà poi chiaramente anche le prossime elezioni, anche l'Italia e l'Europa in generale, perché ovviamente c'è un'evoluzione digitale che rende la politica sempre più social. Volevo chiederti in conclusione, perché è giusto parlare anche del tuo lavoro per il gruppo editoriale di Reteotto, qual è la tua esperienza che proviene appunto dal mondo dei social, ma anche dal mondo dei portali dei grandi quotidiani, tramutata in una aspettativa di aumento anche di ascolti televisivi e anche di diversificazione dell'offerta da parte di chi produce contenuti, in particolare sull'informazione locale. Come sta andando questa esperienza per te e anche per Reteotto? Guarda Carmine, molto concretamente, noi da due anni e mezzo a questa parte abbiamo dimostrato come anche l'informazione di una televisione regionale di riferimento come Reteotto possa essere anche un'informazione social e da questo punto di vista è importante ragionare su un punto. Non c'è stata una contrapposizione tra la redazione della TV e la redazione social, ma un lavoro che ha visto protagonisti, giornalisti, alcuni giornalisti della redazione impegnati sui social e ha visto, e questo Carmine è importante sottolinearlo, anche supporto da parte di tutto il team dei tecnici di Reteotto. È chiaro che diciamo c'è un lavoro importante che in questi due anni e mezzo ha portato a dei risultati importanti, ma non possiamo e non vogliamo essere in questo senso autocelebrativi, però i numeri sono importanti per far riflettere, cioè per capire che quando tu pubblichi un contenuto hai una responsabilità. la pagina social, la pagina Facebook, i profili social, il profilo Facebook di Reteotto raggiunge ogni mese circa un milione e mezzo di persone e di interazioni. Questo significa che così come avviene sugli altri canali, sugli altri mezzi, sugli altre piattaforme della televisione, c'è un concetto di attenzione, di precisione verso l'informazione. Bisogna essere sempre sul pezzo, ma bisogna essere sul pezzo nel modo giusto e credo che in questo senso l'esperimento sia un esperimento strariuscito, c'è una visione, tutto parte sicuramente da una visione imprenditoriale che ha voluto puntare in questa direzione e credo che anche i prossimi anni di Reteotto, ma questo me lo puoi confermare più tu, saranno votati appunto a mettere sempre più l'accento su queste nuove opportunità, su questi nuovi modi di veicolare informazioni e contenuti. Sì, mi viene da aggiungere appunto il valore principale del nostro lavoro, per il quale tutti noi giornalisti ci svegliamo al mattino e anche tu Roberto, da giornalista soprattutto a questo punto, più che da manager social, è quello di assicurare la credibilità di tutto ciò che scriviamo, l'autorevolezza ma anche la credibilità di tutto ciò che scriviamo e quindi Reteotto, se pubblica una notizia, ha una sua autorevolezza, una sua credibilità che appunto diventa quello che fa veramente la differenza oggi in un mondo in cui tutti, per fortuna perché esiste la democrazia, possono dare notizie su qualunque bene. Poi si tratta di capire se quelle notizie sono credibili, attendibili, autorevoli. Questo che tocchi è un punto fondamentale, perché non esiste Reteotto sui social o Reteotto in tv, esiste semplicemente un brand, una televisione, un grande gruppo editoriale regionale che produce informazione e lo deve fare nel modo corretto, con etica, con deontologia, ma ovviamente anche guardando quelle che sono le evoluzioni delle varie piattaforme e dei nuovi linguaggi. E credo che questo riguardi Reteotto, ma in generale è un discorso che riguarda tutti i vari media, non solo quelli del mainstream, ma chiaramente anche i media locali, che in generale in Italia, secondo me, hanno ancora grandissime potenzialità da esprimere, sono riferimenti importanti nelle varie comunità regionali e locali e quindi non bisogna mai dimenticare quello che è il ruolo e la centralità dell'informazione locale. Grazie Roberto, questo ovviamente è quello che volevamo comunicare noi ai nostri telespettatori, poi saranno appunto i telespettatori e i follower a giudicare il nostro lavoro. Grazie ancora e in bocca al lupo per il successo che io immagino sia già percepibile, perché si tratta di un prodotto di cui c'era veramente bisogno nell'editoria, che non è soltanto quella scolastica, ma è un'editoria più in generale generalista, scusatemi il gioco di parole, ma è così, perché trovare anche in libreria un manuale di giornalismo digitale non è utile soltanto per chi deve insegnarlo, per chi vuole impararlo, ma è anche utile per il cittadino e anche per capire qualcosa di più a proposito dell'informazione e come dicevo anche della sua libertà. Grazie, arrivederci. Grazie Carmine, buonasera a tutti e buon proseguimento.